Nel corso di un incontro con la Sampa tenuto oggi a Pescara, le associazioni ambientaliste hanno illustrato le prime iniziative per contrastare la scelta definita scellerata della regione Abruzzo di cancellare nei fatti la riserva regionale del Borsacchio nel comune di Roseto degli Abruzzi. La cosa vergognosa è che alle due e mezza di notte si presenta un emendamento alla legge di bilancio e si cancella un'area protetta, un'area protetta importante come quella del Borsacchio perché va a tutelare uno dei pochi territori delle fasce collinari della provincia di Teramo che si è salvata rispetto alle costruzioni e edificazioni che ha interessato tutte le altre. E' una cosa scandalosa, noi chiediamo assolutamente alla regione di tornare indietro, lo faremo in tutte le sedi legali possibili e lo facciamo anche attraverso un'attività di informazione di cittadini perché è importante sapere che non è vero che la riserva blocca lo sviluppo di un territorio, anzi da un certo punto di vista lo aiuta perché permette di fare tutta una serie di attività che in altre zone non possono essere fatte anche attraverso una serie di finanziamenti. Ci sono ancora i margini e la possibilità di intervenire concretamente e bloccare questo provvedimento? Stiamo studiando con i nostri legali tutte le azioni che sarà possibile intraprendere e soprattutto abbiamo intenzione di tenere alta l'attenzione sul territorio proprio perché la riserva va salvata e andrà gestita quindi sempre in alleanza con il territorio e in concertazione con quest'ultimo. Ci dispiace per le falsità dette sul ripristino di una riserva originaria, basta andare sul sito della regione Abruzzo per vedere la proposta di legge del 2004 firmata da 17 consiglieri di ambo gli schieramenti e poi le cartografie presentate nel 2005 e la modifica del 2006. Tutto falso, per chi è del posto quando si sente dire che non si possono tagliare gli ulivi e si percorre la statale con i contadini che potano gli ulivi viene solo da ridere. Sono soltanto pretesti per chi non è del posto per motivare quello che è una compravendita di terreni a fini immobiliari. Si tratta di un errore clamorosa dell'aggiunta a Marsilio e il secondo errore che fa, perché ricordiamo che aveva provato a tagliare anche il parco regionale Sirentevelino e è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale quella legge. Direi al presidente Marsilio di evitarsi una nuova brutta figura e di tornare sui sui passi.